Sento spesso di ragazzi che quando conoscono una ragazza, all'inizio, le chiedono il contatto Facebook. Ecco, questa è una cosa assolutamente da evitare. So che, soprattutto per chi è molto giovane, è un'abitudine. Forse si usa più Facebook rispetto ai messaggi o a WhatsApp, magari. Però evitate di farlo. E i motivi sono due. Il primo è che fanno tutti quanti così. Quindi non ci si differenzia rispetto agli altri. E se c'è una cosa importante da fare quando conosciamo qualcuno, è far capire che noi siamo diversi rispetto agli altri, ma non soltanto nel rapporto uomo-donna, anche durante un colloquio di lavoro, o banalmente quando conosciamo un probabile amico, che so, è importante far capire che noi siamo delle persone in una certa misura speciali, diciamo così. E il secondo motivo è proprio collegato a questo. Dato che è una cosa che fanno tutti, non è una richiesta molto impegnativa. E poco impegnativo vuol dire poco coraggioso. Se c'è una cosa che una ragazza cerca in un ragazzo, è il coraggio. Ma oggi il coraggio non significa buttarsi giù da una rupe o fare chissà che. Anche semplicemente chiedere il numero di telefono. Fantastico! Sai che coraggio! Però davvero, se uno non è in grado di fare neanche quello, ma figuriamoci tutto il resto. Poi ovviamente, per chiedere il numero di telefono, così come per ogni altra richiesta in generale nella vita, ci sono strategie, tecniche, accortezze che bisogna utilizzare. Magari ci farò un video apposito. Però comunque, in un rapporto, prima o poi arrivano dei momenti in cui bisogna fare un piccolo salto nel vuoto. Anche per dimostrare alla persona che abbiamo di fronte che è importante per noi, o quantomeno che nutriamo un interesse nei suoi confronti. E se non riusciamo neanche a fare questo, allora che ci stiamo lì a fare?